Tutto Valle e bentrovati dal Palla di Leone, è stata ancora un'altra bella vittoria per la Libera Virtus, 3-0 contro l'Olimpia Venemento. Siamo qui con uno dei protagonisti di questa sfida, Serena Carlozzi, che tra l'altro, possiamo dirlo, è stata una partita perché, come si era messo il primo set, certamente è stata un pochino stretta, no? Siamo partite col freno a mano tirato, è stato difficile, ma comunque siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata e proseguire per la corsa. Una vittoria che comunque poi è stata praticamente senza troppo strafare, insomma il Venemento ha cercato di fare quello che poteva, ma comunque tre successi su tre, è un bel inizio di stagione. Sì, sì, è un bel inizio di stagione, poteva andare diversamente, noi diciamo che doveva andare così. Stiamo lavorando in maniera costante in palestra, comunque risultati, se lavori in un certo modo, se non dovessero arrivare, sicuramente si può sempre migliorare, però c'è qualcosa da rivedere. Nel nostro caso non è così, quindi continuiamo così e vedremo. Quattro, praticamente era, e mi siete scoperti, sin dall'inizio della stagione voi puntate sicuramente a vincere con questo campionato. Tra l'altro voi, domenica prossima, trasferta in seduzio a poter essere. Sì, sì, gli obiettivi della società sono stati chiari sin dall'inizio. Noi cerchiamo di raggiungerli passo dopo passo, pensando ai piccoli obiettivi da realizzare, ai centri da mirare. Domenica prossima a potenza sarà dura, ce la metteremo tutta, cercheremo di essere concrete e determinati. Bene, grazie a Serena Carlozzi per essere stata nella nostra trasmissione. Rimanete con noi tra poco, risultate in classifica. Grazie.